Un grande saluto cordiale del teatro della Pergola, magnifico teatro del Seicento per fare il capolavoro delle nozze di Figaro di Mozart. Un ambiente incredibile perché questo teatro è veramente un gioiello con un cast superbo e magnifico orchestra del Maggio Musicale. Avevo diretto un concerto con musica di Schubert e Schumann quattro settimane fa e sono molto felice di fare adesso l'opera con loro. Nozze di Figaro è un capolavoro, una delle più grandi, più celebri opere che esistono qui in questo teatro e veramente un regalo. Un lavoro molto agradevole con il regista, con tutti i cantanti, siamo veramente molto felici. Posso dire venite tutti perché c'è una possibilità di ascoltare questo capolavoro. Veramente vale la pena venire.